L'arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è. L'aforisma di Paul Klein ben si accosta, nessun parli, musica e arte oltre la parola. L'evento, proposto dagli studenti del liceo scientifico Filolao, che si sono trasformati in quadri viventi, veri e propri scatti in cui è stato possibile ammirare amore e psiche, la primavera del Botticelli, il tondo doni di Michelangelo e non solo. Un vero tuffo nella storia che ha visto protagonisti gli studenti di 15 classi. Non un'opera sola, ma tante. Non una lettura antica, ma moderna. Unire la interpretazione classica ad interpretazione anche vissuta e realizzata attraverso lo studio e le riflessioni dei nostri alunni, sotto la guida di docenti preparati e anche di tutor e aziende, perché questa nostra manifestazione è un progetto di alternanza scuola-lavoro. I visitatori hanno avuto la possibilità di essere guidati attraverso un percorso espositivo di opere viventi, con l'ausilio delle guide, e hanno assistito ad un momento musicale in auditorium. Ci vuole collaborazione, impegno, essendo un lavoro di squadra. È un'esperienza comunque importante in quanto esperienza formativa, perché ci porta anche alla conoscenza di nuovi artisti, nuovi pittori che comunque non conoscevamo, di opere fantastiche che comunque a noi erano sconosciute. In risalto, l'inventiva dei ragazzi, nel far coesistere musica e arte. Gli studenti hanno dimostrato grande impegno e partecipazione, in alcuni casi ricercando e proponendo direttamente le opere d'arte da rievocare. Si sono messi in gioco, dando il meglio di loro stessi, con l'obiettivo di trasmettere l'importanza e i valori nascosti all'interno di un'opera d'arte.